ciao a tutti allora altro film che ho visto al cinema in questi giorni ed è un film che mi aveva intrigato dal 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 trailer che avevo visto mi ha intrigato perché soprattutto per il tipo di film per com'era realizzato e poi ho visto certi attori che mi hanno detto caspita questo lo devo vedere assolutamente ed è un film che poi vi spiego bene com'è perché spiegarlo adesso nell'introduzione non mi sembra adatto quindi io partirei subito quindi con la regia di ryan johnson ed è cena con delitto allora ryan johnson giocci scusate johnson è regista anche di star wars gli ultimi jedi oppure l'oper fuga al passato o the brothers bloom ma è anche famoso per aver diretto la serie tv che ormai ne parlano tutti ed è breaking bad questo è un regista che non ha fatto tanti film ha fatto questi diciamo mini capolavori e questi tra questi mini capolavori è uscito uno dei oddio non lo definirei neanche capolavoro lo definirei un buon film che magari mancava da tempo al cinema un film così con attori come daniel craig che vabbè ricordiamo tutti per 007 il nuovo 007 poi c'è chris evans che non lo ricordiamo soprattutto per capitano america poi c'è tonicolette che io ricordo per trumpus e anche per quel capolavoro che era erediti poi c'è anche attrici giovani come anna de armas sempre 007 e poi c'è anche jamie lecourtis che è un'attrice francese ma invece se vi ricordate l'ultimo halloween oppure commedie piccole come ancora tu oppure beverly's chihuahua della disney scusate don johnson insomma un grande cassa no meno tutti gli attori allora è anche lui per diversi film insomma sia per commedie che per altri film poi attrici giovani catherine long 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 ford scusate io proprio non ci sono vabbè aveva diciamo interpretato the simon un film era stata in simon e anche in avengers endgame delito scusate è partito l'audio e quindi attrici giovanissimi attrice giovanissima chi avrà un bel ruolo un ruolo diciamo anche principale del film basta nominare attori parliamo della trama niente che cos'è è un crimine è un crimine stile agatha christie ma secondo me anche stile ichikok e c'è questo investigatore parte con un qualcosa che è successo un qualcosa di brutto perché c'è un investigatore come assistente all'inizio poi c'è parte subito la scena con la polizia che fa le domande a questa questa famiglia ogni persona e ogni persona racconta insomma quello che è successo quella sera il capo famiglia diciamo il pane nonno quello che gestiva tutta la famiglia non è l'anno è stato trovato molto che cosa è successo non si è non non si capisce se sia stato omicidio oppure se sia stato un suicidio qualcuno pensa di più suicidio a un certo punto a mano a mano che ognuno racconta la sua versione c'è diciamo questo investigatore beno at blank beno at blank vabbè daniel traig che interviene e dice questo caso per me infatti prende lui in mano in tutto con la polizia e diciamo fa l'assistente quindi si invertono un po le cose e parte subito il film vero e proprio e questo è un film che è tutto da scoprire quindi se io vi sto a raccontare la trama diciamo che anzi più più di questo non posso dirvi quindi è un omicidio è un omicidio no il capo famiglia è stato trovato morto nella casa non si sa il perché c'è questa ogni persona racconta la sua versione racconta un pezzo di quella sera il com'era cosa faceva cosa non era fino ad arrivare a una soluzione a un tassello del tassello come dice il nostro dare al buco nella ciambella insomma si arriva a diverse cose un film secondo me da non perdere da non sottolineare ho visto che molta gente è andata e quindi qualcuno di voi l'avrà visto ditemi cosa ne pensate e insomma fatemi un po sapere no di questo film a me è piaciuto tanto è piaciuto quindi io lo reputo uno dei migliori film dell'anno assolutamente quando farò il meglio e il peggio vi dirò meglio se l'ho reputato uno dei film migliori ma io lo reputo sì uno dei film migliori ma ci sono anche altri film che per carità nient'altro e non tolgo niente nessuno però questo è un suo perché soprattutto per il cast il cast fantastico la storia che riesce a stare in piedi e riesce a tenere lo spettatore incollata la poltrona per quasi due ore e mezza quindi è anche lungo il film non è che un'oretta e mezza come è di solito no qua si parla di due ore e mezza quindi un film veramente fatto bene che come vi ho detto riesce a prendere lo spettatore quello la cosa più importante ma riesce a prenderlo in una maniera in cui il film è fatto come si deve non la solita cavolata magari vediamo è un cast fantastico come l'ho già detto montaggio e montaggio del film è molto particolare soprattutto in una scena finale non la svelo perché se no e poi c'è fotografia insomma è stile voi il romanzo è stile c'è il romanzo la storia è stile agatha christy però trovate anche troverete anche dell'itchcock io ho trovato anche dell'itchcock e secondo me sì sì c'è anche l'itchcock se voi avete mai visto un film di l'itchcock magari non andate su quelli va beh i più famosi su psycho quelle cose lì però avete visto un thriller di l'itchcock proverete anche quello troverete un po di di quello stile di quello stile e quello stile che come vi ho detto prima mancava da tempo sul grande schermo finalmente è uscito un film dove riesce a prendere tanta gente dove riesce a portare al cinema tanta gente ma portarla a vedere un film fatto veramente bene niente che dirvi questo è cena con delitto e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti